Buonasera, bentrovati a Dicaro Tg, vediamo insieme i titoli di oggi. SCM a rischio decine di posti di lavoro, l'azienda comunica ai sindacati una ristrutturazione pesante per lo stabilimento Steelmec che doveva essere la base del rilancio. Santa Giustina, il comitato propone una nuova soluzione per dirottare i mezzi pesanti e chiede di introdurre la tassa di scopo per finanziare la circonvallazione. Tassa di soggiorno, gli albergatori di Riccione attaccano, viene applicata solo per ragioni politiche, sarà il colpo di grazia per il turismo, ma il sindaco ribadisce le sue ragioni. Nuovi arredi per il reparto di senologia all'ospedale Infermi, a Donardi l'associazione Crisalide, al Via anche il sostegno psicologico per le donne operate. Apriamo tornando a parlare di problemi sul lavoro da cardina del rilancio dell'azienda a fonte di gravi perdite. Non arrivano buone notizie per i lavoratori della SCM, la cui direzione ha annunciato oggi in un incontro con i sindacati un piano di ristrutturazione pesante per lo stabilimento Steelmec di Villa Verucchio, con una riduzione fino al 50% della forza lavoro. Lo stabilimento che occupa 220 lavoratori nel 2009 era stato indicato dalla direzione dell'azienda come il nuovo polo tecnologico avanzato dal quale far partire proprio il rilancio. A fine 2011, ricordano i sindacati, la dirigenza riteneva poi ormai completa la riorganizzazione industriale, senza quindi bisogno di nuove chiusure o accorpamenti e l'eventuale calo di lavoro, derivante dalla crisi, sarebbe stato assorbito dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Secondo CGL, CISL e Will, che già a dicembre avevano evitato col contratto di solidarietà all'esubero di 47 dipendenti delle fonderie, non è accettabile la perdita di altri posti di lavoro. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente con i vertici SCM per chiedere conto dei mancati risultati ottenuti col piano industriale varato nel 2009. Intanto lunedì mattina i lavoratori di SCM e Steelmec hanno proclamato lo sciopero. All'indomani della nuova assemblea cittadina, il comitato di Santa Giustina lancia una proposta alternativa per deviare dal centro cittadino il transito dei mezzi pesanti, dei grandi impianti in arrivo, ma anche per integrare il finanziamento della nuova circonvallazione. Con l'amministrazione resta aperto il confronto, ma sempre partendo dalle istanze dei cittadini. Vediamo. Dall'assemblea il mandato ha promuovere iniziative di protesta pacifica affinché non saranno raggiunti gli obiettivi. In primis la circonvallazione non con sbocco al cimitero, ma con sbocco a San Martino in Riparotta, come nel progetto approvato nel 2011 in consiglio comunale, ma poi fermato dallo stesso comune perché, ha spiegato Palazzo Garampi, si rischiava la bocciatura dalla provincia. Bocciatura che va comunque motivata, ricorda il comitato, che la provincia la incontrerà la settimana prossima. E poiché quella di Santa Giustina è un'emergenza cittadina, visto che ci saranno un impianto di biogas e il raddoppio del depuratore al servizio della città. È giusto che tutta la città contribuisca. Proponiamo che sia istituita, se questo problema ha rilevanza comunale, che sia istituita nuovamente l'imposta di scopo finalizzata alla costruzione della circonvallazione di Santa Giustina. L'ammontare o le entrate dell'imposta di scopo e l'ammontare di quella cifra da dirottarsi sulla circonvallazione potrà variare in relazione alle entrate, a quel punto che diventeranno certe derivanti dai ribassi d'asta, dal depuratore e da quanto può pagare la centrale biogas. L'imposta di scopo ci dà la garanzia di entrate certe su un progetto concreto, altrimenti rimane tutto molto aleatorio. Proposte ne arrivano anche sui progetti. La strada di servizio per il cantiere A14 con un tratto ulteriore di 900 metri e una rotatoria potrebbe congiungersi con la via Emilia San Martino. La strada, da fare subito prima degli impianti, sarebbe a carico di pavimentare delle ditte che della strada si servono. Riva dito il no invece a portare la complanare all'altezza del cimitero. Bisognerebbe invece portare a quattro corsie l'adreatica tra la Tolemaide e Viserba Monte. Intanto tecnici di Arpe Comune oggi hanno svolto i primi sopralluoghi per i controlli delle emissioni atmosferiche. Non facciamo politica, ricordano quelli del Comitato, che comunque citano l'appoggio alle loro proposte anche dal presidente del locale Circolo del PD. Restiamo a Rimini. Per la giunta Agnassi il 2012 è stato il primo anno intero alla guida del Comune. Oggi è stato presentato alla stampa il rendiconto di gestione che entro fine mese passerà poi in Consiglio Comunale. Nonostante i tagli di ressore, se l'amministrazione è riuscita a rispettare gli obiettivi che si era posta, spiega l'assessore Brasini, che mette le mani avanti per il 2013. Sarà un'annata difficile. Pronti via e dal bilancio sono venuti meno 16 milioni rispetto al 2011. Oltre 13 di tagli dallo Stato. Nonostante questo, spiega l'assessore Brasini, gli obiettivi 2012 sono stati raggiunti. A consuntivo figura un risparmio di oltre un milione, nonostante i 950 mila euro per l'emergenza neve, e le scelte di non mettere gli oneri di urbanizzazione in parte corrente e di contabilizzare i 2,6 milioni del trasporto pubblico. Tra i numeri della Spending Review spiccano i 100 mila euro risparmiati per il riscaldamento e i 105 per le pulizie. Altro aspetto sul quale si è concentrata l'amministrazione la riduzione del debito. Una riduzione molto importante che prevederà già dal 2014 in sostanza una consistente diminuzione del debito del comune. Soltanto nel corso del 2012 abbiamo estinto quasi 6 milioni di euro di mutui. Dai 136 milioni e mezzo di fine 2011 il debito è ora intorno ai 119. Tornando al bilancio, oltre il 41 per cento della spesa corrente si è concentrata su welfare, istruzione e sicurezza, con un aumento di spesa nel sociale. A livello di entrate, del Limu sono rimasti quasi 55 milioni, 2,7 sono arrivati dalla gestione diretta dei parcheggi, 1,7 dal recupero dell'evasione e 570 mila dai tre mesi della tassa di soggiorno. Nel 2012 sono stati effettuati pagamenti per 34 milioni e mezzo, 3 milioni al momento le fatture non pagate. Intanto si guarda anche al 2013. A breve ci dovrebbe essere una nuova asta per la vendita delle reti del gas dopo quella andata deserta dello scorso anno. Si partirà da una cifra del 30 per cento inferiore rispetto ai 16,5 milioni iniziali. Gli introiti andranno al piano di salvaguardia della balneazione. Tra le criticità il calo degli oneri di urbanizzazione a causa della crisi edilizia e le incertezze a livello nazionale. Tutte le manovre prevedono comunque la mano dello Stato nelle entrate degli enti locali. Lo abbiamo visto con l'Imo, abbiamo girato i cittadini riminesi che hanno pagato 32 milioni di euro allo Stato. La Tares prevederà aumenti del 15 per cento che saranno totalmente a vantaggio dello Stato e non dei comuni. L'ipotesi di trasformare l'imposto di soggiorno in imposto di scopo va nella stessa direzione, cioè di creare l'ennesimo strumento per lo Stato per metterci le mani. Quindi direi che il processo di federalismo fiscale è morto. E a margine l'assessore Brasini ha dato qualche aggiornamento anche sull'imposta di soggiorno che nell'anno in corso dovrebbe portare nelle casse del comune tra i 4,5 e i 5 milioni di euro. In questi primi mesi si sta applicando per le prime sette notti di soggiorno con esenzioni per i minori di 14 anni. Dagli albergatori sono arrivate varie proposte per ulteriori esenzioni che dovranno essere però valutate dall'amministrazione anche in base all'eventuale mancato incasso. E l'imposta continua a tenere banco anche a Riccione dove ieri in 250 hanno partecipato all'assemblea straordinaria convocata dall'AIA all'Hotel Corallo, non solo albergatori ma anche dipendenti e fornitori uniti contro la decisione del comune riccionese di applicare l'imposta. Sette le proposte deliberate, dai manifesti per informare i turisti su quali partiti hanno voluto la tassa, alle manifestazioni pubbliche di protesta, dalla rottura di tutti i rapporti con l'attuale giunta, alla sospensione degli acquisti verso i fornitori che abbiano un connesso con assessori e consiglieri comunali che voteranno per la tassa, fino ad arrivare all'impugnazione al TAR del regolamento dell'imposta di soggiorno e all'obiezione fiscale con il rifiuto di raccoglierla dai clienti. Tra le ipotesi anche il declassamento delle strutture. Ma sentiamo proprio il Presidente degli albergatori riccionesi, Bruno Bianchini. Alcune proposte le abbiamo già vagliate e deliberate, altre sono subiudice del nostro ufficio legale, vale a dire stiamo facendo verificare dai nostri legali la fattibilità di alcune iniziative. Una fra queste è la proposta che è proposta. La provocazione, anche se vogliamo la protesta bianca, chiamiamola così, era quella di consegnare, riconsegnare le licenze alle stelle, declassarci tutti a un estello e poi dopo la classificazione ce la faremo noi in maniera convenzionale. E' chiaro che in questo momento riccione c'è la necessità di imporre la tassa di soggiorno indipendentemente da quelle che sono le necessità di bilancio. Cioè lei dice una questione politica? Certo, non è che sia un segreto per nessuno. Sono più grado di piaciuto perché o non sono riuscito a spiegare che tipologia di danni provocherà questa cosa la nostra economia, oppure non sono riuscito a capirmi, oppure non frega niente a nessuno, non lo so. Certo è che saranno dei danni notevoli dal punto di vista economico e dal punto di vista di immagini. Danni notevoli all'interno di una stagione che comunque, a prescindere l'imposto di soggiorno, si presenta problematica, molto problematica, la più ottimistica delle previsioni. Se ci sarà l'imposto di soggiorno vedremo come applicarla, vedremo se come sia possibile, grazie a parere dei nostri legali, guidare la protesta civile ovviamente. Poi, visto che tutto sommato le motivazioni sono politiche, daremo anche una risposta politica, ovviamente. La risposta politica significa prepararsi alle prossime amministrative che ci saranno fra 14 mesi. E proprio a margine della definizione del bilancio è arrivata una replica a Bianchini da parte del sindaco Pironi. Purtroppo, proprio gli albergatori sono stati l'unica parte che ha volutamente deciso di non partecipare ai tavoli di confronto, dice. Assenza che ha impedito loro di rendersi conto dello sforzo economico fatto dall'amministrazione per continuare a garantire servizi di qualità anche sul versante turistico. Altri centri balneari, spiega Pironi, hanno confermato che l'introduzione della tassa di soggiorno non desta assolutamente segnali negativi sui flussi turistici. La risposta ai cali probabili per l'estate 2013 dovuti alla crisi per il sindaco non può che essere l'arma della qualità. La cronaca suona in corso dalla tarda mattinata di oggi, le ricerche di un uomo di 73 anni la cui auto è stata ritrovata parcheggiata al portocanale di Rimini. Tre mezzi della guardia costiera, un gommone dei vigili del fuoco con sommozzatori e un elicottero della guardia di finanza hanno concentrato l'attività in prossimità delle ostruzioni del porto. E' stato arrestato invece ieri in Spagna il quarantenne marocchino coinvolto nel 2011 nell'operazione Regina dei Carabinieri di Riccione. L'uomo è accusato di aver portato in Italia ben 15 kg di cocaina e è stato estradato in Italia per essere sottoposto a processo. Andiamo adesso in stazione. Se NTV voleva arrivare con i suoi treni a Rimini doveva pensarci prima perché gli interventi vanno programmati in anticipo e con i chiari di luna attuale sono impossibili spese estemporanee. Così si potrebbe riassumere la risposta di RFI alla compagnia di Montezemolo, nuovo capitolo della Cherel su Italo. Arribadita anche l'impraticabilità dell'anticipo dei soldi per l'adeguamento da parte di NTV, quel tipo di finanziamenti servono a coprire l'usura dei binari senza margini per altri interventi. Nel mirino di RFI finisce in particolare l'assessore provinciale ai trasporti Vincenzo Mirra, accusato di aver rilasciato dichiarazioni non rispondenti a verità. Un inghippo burocratico lascia nel garage quasi il 50% dei mezzi del parco auto della Polizia Municipale di Rimini. Una recente disposizione del Ministero prevede infatti che gli agenti possano guidare le macchine targate Polizia Locale che sono le più nuove, solo col possesso di una patente di servizio, ma a Rimini la Prefettura non l'ha mai rilasciata. Vediamo. È solo un inghippo burocratico ma sta provocando non pochi problemi agli agenti della Polizia Municipale di Rimini. A causa infatti di una patente non abilitata dalla Prefettura non possono guidare le auto targate Polizia Locale. È di metà novembre del 2012 una circolare del Ministero che obbliga ad avere una patente di servizio per utilizzare i mezzi immatricolati dopo il 2009. Si tratta di una trasformazione automatica per gli agenti più anziani. I neo assunti invece dovranno dare un nuovo esame di guida teorico e pratico. A Rimini al momento sono oltre una ventina le macchine che restano in garage. Avendo questa targa specifica per condurle già dal 2005 bisogna ad adottarsi della patente di servizio. La Prefettura di Rimini dopo tante nostre sollecitazioni non aveva mai fatto questa nuova patente. Alla luce invece di una circolare della Prefettura di Treviso si sollecita ad adottare questa patente di servizio perché se no non si è più autorizzati a condurre queste macchine. In caso di un sinistro stradale i colleghi guidano delle auto e non sono autorizzati. Il cavillo sembra sia fermo la Prefettura di Rimini perché tutti i comandi hanno già inviato la maggior parte della provincia le fotografie, tutti i documenti necessari per ridottare il personale di patente di servizio. Altre prefetture come quella di Ravenna hanno già rilasciato la patente abilitata nel 2007, una mancanza alla quale fino all'arrivo della circolare a Rimini non era mai stato dato troppo rilievo, tanto da ritrovarci al paradosso vissuti in questi giorni. A rassicurare ci sono le parole del comandante della Polizia Municipale, Talenti, che è certo che in tempi brevi la Prefettura risolverà il tutto. Con la Prefettura siamo in una fase previmentale per cui nel giro di un po' di giorni, una settimana, dieci giorni dovremmo risolvere questo problema, fermo restando che chiaramente il personale dipendente può tranquillamente continuare a condurre con la sola patente civile tutti i mezzi che ovviamente non hanno Polizia Locale nella taglia. Problematiche immediate non ce ne sono. Restiamo sulla strada ma per parlare di inquinamento. Rimini ha infatti già esaurito il bonus di 35 sforamenti del PM10 consentiti in un anno almeno in una delle due centraline cittadine. Con i 52 microgrammi per metro cubo di giovedì la centralina di Via Flaminia è arrivata al 36esimo sforamento nel 2013. Seppur di poco ieri Rimini è stato l'unico capoluogo oltre i limiti e l'ottavo sforamento consecutivo per Via Flaminia rigallunga la peggiore centralina in regione in questo inizio d'anno. La seconda, Parma-Montebello, è a 29. Solo 10 sforamenti invece per la seconda centralina riminese, quella del Parco Marecchia. Domenica Rimini intanto si terrà a Respira, prima domenica ecologica dell'area vasta Romagna, col blocco del traffico dalle 8.30 alle 18.30, ma anche iniziative al mattino in Piazza Cavour, tra le quali una pedalata ed una camminata per le vie del centro. All'ospedale Infermi la festa della donna è stata il pretesto per un'importante inaugurazione al reparto di senologia. L'associazione di donne operate al carcinoma mammario Crisalide ha donato arredi e attrezzature per 12.000 euro, ampliando gli spazi a disposizione. Inaugurata anche la partenza del corso di sostegno psicologico alle donne appena operate. Grazie a queste pareti mobili, agli arredi e alle attrezzature donate dall'associazione Crisalide di Rimini al servizio di senologia dell'Ausl, anche all'infermi si compie un passo in più verso il modello canadese della Breast Unit, in cui il rapporto tra volontariato e struttura ospedaliere è molto stretto. Lì è veramente attivo un rapporto diretto tra volontariato e struttura sanitaria con enorme beneficio a favore appunto dell'utenza e della struttura stessa. In provincia di Rimini ogni anno vi sono circa 370 nuovi casi. Il servizio di senologia è stato inaugurato nel giugno scorso e da allora sono state svolte 16.000 mammografie di screening, 266 biopsie, 360 agua aspirati, 224 le donne operate. Il servizio è in grado di valutare 200 pazienti al giorno, tra screening e pazienti in clinica. E offriamo un servizio alle nostre pazienti che possa, che dà la possibilità di eseguire in un'unica giornata tutto il percorso diagnostico. Al programma di screening aderisce più del 60% delle donne in regione. In Emilia-Romagna l'indice di mortalità è tra i più bassi d'Italia. Sempre grazie all'Associazione Crisalide è stato ampliato il servizio di supporto psicologico alle donne operate con un corso che è cominciato proprio oggi. Si tratta di un corso di nove incontri e possono partecipare tutte le donne con una diagnosi avuta di recente per cui parliamo all'incirca degli ultimi sei mesi e il corso è gratuito. Ad ogni incontro affrontiamo sia la parte emotiva psicologica delle donne e una parte di supporto informativo con i medici. Moltissime donne mi riferiscono di avere veramente rivalutato le priorità della vita e dunque auguro a tutte di vivere a pieno questi giorni insieme. Sono giovani donne che hanno perso il lavoro e si sono reinventate, altre invece sono riuscite a conciliare i tempi di impresa a quelli della famiglia. Alcune di loro le abbiamo intervistate in occasione della decima edizione del premio Imprenditrici di Successo di CNA e Confartigianato. Da appena un anno Deanna ha un negozio specializzato nella vendita di prodotti per celiaci, diabetici e altre intolleranze alimentari. Tu però sei geometra ed arredatrice. Come arrivi a questa attività? Arrivo a questa attività perché dopo un anno di disoccupazione con porte chiuse in faccia perché ero troppo vecchia, senza esperienza perché per 13 anni ho fatto il geometra, ho detto investo tutta la mia disoccupazione e i miei risparmi in una cosa che amo perché il negozio è sempre stato il mio sogno e soprattutto io mangio il senza glutine da un pezzo perché comunque anche chi non è celiaco può avere delle problematiche a livello intestinale e il glutine se lo eliminiamo abbiamo una digestione migliore. Ho detto proviamo visto che in giro c'è poca roba. L'attività era un'attività di famiglia che è nata in realtà 30 anni fa come laboratorio fotografico in bianco e nero. Mio padre stampava il bianco e nero come si faceva nei film. Io l'ho rilevato insieme a mia madre e lei ha mantenuto la parte quella diciamo più tradizionale e io l'ho trasformato in un studio fotografico. Al momento fotografo molte pance, molti bambini e questo è partito dall'attenzione di essere anche mamma perché ho anche tre figli e quindi provando la maternità e facendo grandi loro riesco ad accostarmi alla vita della famiglia, al sentimento che si prova ed è bello. Bello. Finendo il diploma di liceo artistico non sapendo bene o male che cosa fare ho provato a fare questo corso da ottica e finiti gli studi nella stagione estiva ho trovato subito lavoro e mi è piaciuto e ho continuato comunque gli studi l'anno dopo. Dopodiché ho conseguito il diploma e poi ho deciso di intraprendere questa strada insomma quindi di aprire un negozio. Sicuramente è un traguardo importante non solo premiare le donne ma che le donne riescano a resistere dopo cinque anni di crisi conclamata e il fatto che fra le premiate ci siano delle imprese che si sono reinventate il lavoro, che hanno avuto il coraggio di aprire un'attività investendo è una cosa sicuramente da premiare. E' stata inaugurata oggi all'Open Space NFC di via 20 settembre a Rimini la mostra Heartquake Woman a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Emilia. Il ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto ai comuni di Rolo, Cavezzo e Quistello. La mostra rimarrà aperta fino al 22 marzo. Non poteva che inaugurare l'8 marzo la mostra al femminile per sostenere i terremotati dell'Emilia. 23 quadri, uno per ogni artista e una tela bianca per i visitatori più ispirati che abbiano voglia di lasciare la propria traccia. Heartquake Women è l'edizione in rosa del progetto Heartquake che da luglio 2012 ha già raccolto 100.000 euro per la ricostruzione di scuole e asili resi inagibili dal sisma. Tutto è nato da un post su Facebook dove si chiedeva agli artisti italiani di donare un'opera per fare un'esposizione. La risposta è stata incredibile, più di 700 artisti hanno dato una loro opera e indicando anche un prezzo al di sotto di quello che è il loro mercato. Lo scopo ultimo di questo progetto era quello proprio di finanziare la ricostruzione delle scuole nei comuni di Rolo, Cavezzo e Quistello. Un'idea del critico d'arte Alberto Agazzani, promossa dallo Zonta Club International di Reggio Emilia che ha subito contagiato le associazioni riminesi. Oltre all'agenzia NFC, principale promotrice della mostra, anche la Fondazione San Giuseppe per l'aiuto materno infantile, il Centro di aiuto alla vita e l'associazione Larimini che vorremmo. I quadri esposti all'open space di NFC sono stati selezionati appositamente per l'8 marzo, tra le oltre 700 opere raccolte in tutta Italia, acquistabili anche dal sito www.artquake.it. Un ricco campionario di artisti, tra grandi nomi e gente comune, ma con tanta voglia di aiutare. Dico una piccola cosa che per me è una cosa magnifica. L'opera più giovane, diciamo così, era una bambina di sei anni che era il classico disegno da prima elementare, insomma. E anche quello è entrato a far parte nella collezione d'arte di Artquake. E con i doverosi auguri a tutte le donne in questo 8 marzo siamo arrivati in conclusione. Buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie a tutti.